salve tutti quanti ragazzi buongiorno e bentrovati qua su shot gaming con il vostro bio e un nuovo video su un gioco che voi mi avete consigliato un paio di live fa su twitch mi avete consigliato di provare rockshot l'ho scaricato appena partito il gioco la temperatura della gpu è andata a 77 gradi col gioco praticamente solo avviato all'interno della schermata principale cosa ho abbassato tutti i tagli grafici al minimo e la scheda video è tornata a temperature più idonee non ne ho non aveva l'idea di che cazzo di gioco sia andiamo a vederlo insieme ragazze temperatura forse la vedete forse la vedete ve lo dico io nella schermata di caricamento è a 65 gradi vediamo un po come funziona questo gioco allora già da qui è un terza persona stile dead space barra warframe abbiamo un po di scatti allora i comandi sembrano essere quelli standard con control si fa la rotazione non so come ci si sdrai e non so neanche se si può sdraiare un bello la scolanga intanto ogni volta che acceleri che sprinti sembra che sono un po di problemi sprinto e micro lagga poi madonna santa ragazzi che cazzo guardate guardate ma tenendo presente che sto tenendo la grafica al minimo è comunque piacevole colpo alla testa cosa cosa ma vabbè così c'è la mira di dio c'è la mira di un po' falsato ragazzi ma vabbè ma guardate 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 quanto che succede quando c'è ragazzi incredibile quando uno vi attacca col con il con il con il melee praticamente voi non potete fare nulla poi la musica in game è devastante vi fa sentire i colpi ovviamente se buon attraggio spostare spostare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mentre ti muovi mi miri in testa così, ma dai. Vabbè, bellino come gioco, eh. Finora. Vieni qua, puttana. Cosa? No! Alle spalle lo stronzo. E invece il fatto è che tu possa occupare tutta la vita stando fermo. Un po' la COD. Non va bene così, ragazzi. Però vabbè, il gioco, graficamente... Ripeto, un 7 su 10. Ci sta tutto. Ora il raid è il classico team deathmatch, mi pare di aver capito. Ehi, che culo. Uuuuuh. Ah, no! Il death raid è il classico deathmatch. Tutti contro tutti, non team. Però, è già il fatto. Comunque se i server reggano bene... Ho tolto la musica del gioco, ragazzi. Ci ho guadagnato tantissimo. Ma certo! Vedi, 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 vedi. Io prima l'ho attaccato proprio lui. E... Vabbè. Quarto posto. Allora, anche il raid... Anche il raid non è male. Classico deathmatch. Non ha squadre. Classico ha free for all. Va benissimo, dai. Ok. anti sulle. Perfetto! Quanto... No Vabbè Ok ragazzi sono arrivato alla quarta ondata Mi arrendo Perché finisce il video qua ragazzi Io spero che possa essere vi piaciuto Spero che il gioco vi piaccia Io vi consiglio di prendere ragazzi E' veramente un gran bel gioco E quindi ci vediamo al prossimo gameplay Molto probabilmente farò una serie di gameplay in solitaria Proprio su questi eventi qua Vediamo se vi piace l'idea mettete mi piace E scrivetemelo nei commenti Ciao a tutti ragazzi Vi voglio bene Grazie 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 Grazie